Romana, buon dia. No sta da un comienzo, non ha nos processò, però per me questo è il nostro bai venezia la Ramana e scucia il Vagelio. No sta a abri si man santo, cuo il Domingo di Ramana se ricorda l'entrata di Jesus nella Gerusalem, e la vorrei ricevi con jove e alegria per tutto quello che ha fatto. Però entrando in cima in santa, non sta a abri ricorda, non sta a abri ricorda, non sta a abri ricorda su passione, su morto, per soprattutto costa dirigirla al momento, non sta a abri in tridio pascual. Chia di Ramana, Gesù sta dentro di Gerusalem, dame che è dentro di nostra vita, ojalá con il coraggio nella città, che può ricevere constantemente tutti i giorni, facendo un cambio da tommo il luogo nella nostra vita. Assinò non sta a abri seman santa, come spura mi riprocessione, rinna la Ramana man, per celebrare il giorno qui. Durante questa man, noi stiamo in diverse celebrazioni, in maniera già luna, già luna santo, stiamo in missa, l'opportunità per confessare, chiamare mesi cosi, sette ore e noche. Già Ranzò non sta nella pro cattedrale, junto con il bispo, per benicinamento di Zetanam. Zetanam conosso usa per sacramento di iniziazion, tamme sacramento di ordo e infermonan. Già Bierna, Già Ranzò non sta a conmemorare il Sena del Signore, che la instituì, sacramento di Eucaristia e tamme di ordo sacerdotal. Nostra vieni junto, e a nocci, e a nocci di nostra parroquia, e tabai ti un vigile e dispuessi orazione del Gesù. Bierna santo, nostra a conmemorare il passione morto del Signore. Nostra vieni junto, e a gente ardi, e a tine attività durante la ruba, ma non sta il Camino di Cruz, la famosa, con la bella altruvista, però nella nostra parroquia di Santa Cruz, non sta a cominciare 5 ore e mai inta, con il Camino di Cruz del Barrio, 8 ore e mai inta il Camino di Cruz del Serinoca, 6 ore e mai inta il Camino di Cruz Pamuccia, 2 ore e meia tardi, è la lectura di, è l'ultimo sette parole, non dice il Signore, e 3 ore, non c'è la ceremona di comemorazione, passione morta del Signore. Dopo di sei, è il comienzo di novena, nel Gesù Misericordioso. Già sabra, per noi, per tutti cristiani catòlici, o per tutti cristiani, già sabra di Alleluia, questa è la nostra celebrazione principale di gente arana, di vigile di Pasqua, nostra cominciare la misa di oscurità, bendicinamento di candela nuovo, incendimento di bella di Pasqua, che rappresentano Gesù, luce del mondo, che dimentica di oscurità, dimentica di vita, assinacendo che 30. Durante la misa, noi stiamo in bautismo anche, e noi stiamo in bautismo, e noi stiamo in bautismo, e noi stiamo in bautismo, e Eucaristia. E tra domingo, di Pasqua, noi stiamo in bautismo, 8 ore, 10 ore, 12 ore, in bautismo, in bautismo, in bautismo, per nos cedere il giorno grande qui, e 6 ore e media tardi. E tra domingo, ogni luna, di 2 giorni di Pasqua, noi stiamo in bautismo, in bautismo. è stato organizato e ci sono tanti anni che si usano i pelucchi è l'ultimo pelucchi una musica di più bellezza e una figura esterior una foto adoravo la foto e ho avuto un po' di patria una foto per il gym Quedà pendiente solamente di bocura che me... Di cominciare adorare a prezziare qui. Un viaggio santo, stiamo venne a predicar. Il mensaggio per noi è per osservi a provare a Dio di profondità in nostro corso. Dio sta sempre con noi. Dio è per noi trattare con uno sotto. Il amore grande, ma non ti sta sta, ma non ti sta, ma non ti è un amore, non ti sta. Non è grande, ma non ti sta. E la che noi vissi, come un' vita aップare la presenza di Dio. La vita già sta dura, invece. Siamo Dio nella nostra vita, è meno watcene. Non te sta materiale, se non ti ha scusato, ma non ti è giapponciato, Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.